Visita guidata al Civico Museo Petrarchesco di Via Madonna del Mare 13 per apprendere curiosità e segreti sui preziosi codici minati, libri e stampa antiche ed opere d'alte della colazione donata da Domenico Rossetti e la Biblioteca Civica. L'orario normale di apertura, lo ricordiamo, del pubblico è da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì alle 15 alle 19 con domenica chiuso ed ingresso libero. Le visite guidate a pagamento al costo di 4 euro e ridotto 2. Per informazioni si può chiamare lo 040 675 8184, sezione antica della Biblioteca Civica e Museo Petrarchesco Piccolomino. La posta elettronica è museo petrarchesco chiocciolacomune.trieste.it